Ho quattro suggerimenti per te se hai deciso di avviare il tuo business fotografico. Quando avviamo un business fotografico o abbiamo intenzione di farlo, siamo spesso presi dalla voglia e dalla passione per la fotografia. Talvolta lasciamo un po' indietro l'aspetto economico, l'aspetto monetario e quindi dobbiamo cercare di capire quali sono le cose fondamentali per poter mandare avanti il business fotografico in un modo sostenibile. Quindi voglio darti quattro consigli relativi proprio a questo aspetto della professione. Il primo punto che bisogna mettere a fuoco è quello di avere una conoscenza reale e onesta della propria situazione finanziaria. Che cosa intendo con questo? Dobbiamo cercare di capire quanto dobbiamo guadagnare per sostenere tutte le spese che abbiamo nella nostra vita quotidiana. Mangiare, gli spostamenti, tutti gli extra che vogliamo concederci, le uscite, gli svaghi, gli abbonamenti ai vari servizi, palestra, sport, tv e quant'altro. Quindi dobbiamo avere chiarissima questa situazione e cercare di capire quanto dobbiamo guadagnare che spesso non coincide con quanto vogliamo guadagnare. Sarebbe bello che fosse così ma non sempre lo è. Secondo consiglio che ti posso dare è quello di tenere separati il conto personale e il conto aziendale. Non è necessario avere due conti bancari separati ma si può benissimo al giorno d'oggi utilizzare dei conti che ci consentono di avere delle sezioni separate. Quindi in una abbiamo le finanze personali e invece nell'altra abbiamo tutte le finanze relative al lavoro fotografico. Quindi possiamo gestire tranquillamente le due cose anche all'interno di un unico conto per il giusto sapere quanto stiamo spendendo relativamente alla vita privata e invece quanto stiamo guadagnando e spendendo in relazione puramente al lavoro fotografico. Ti aiuterà tantissimo nel capire quali sono le spese necessarie quali sono le spese extra che magari puoi tagliare e comunque ti consentirà di avere un quadro specifico riguardo alla vita privata e alla vita lavorativa. Terzo consiglio importantissimo soprattutto per chi inizia non imbarcarsi in spese esagerate relative all'attrezzatura. Quando si inizia spesso si vuole fare le cose in grande si vuole comprare la miglior fotocamera, i migliori obiettivi, le migliori luci, i migliori accessori si vuole avere tutto ciò che è necessario e di più. Non serve, non sempre serve. L'essenziale è mettere in piedi il business fotografico avendo ciò che serve nell'immediato. Ricordiamoci non è l'attrezzatura che fa la foto ma il fotografo che fa la foto. Non dico che dobbiamo comprarci una fotocamera pessima che costa 100 euro e antica. No, compriamoci ciò che è necessario utilizzare, che riesca a coprire le nostre necessità in quanto fotografi e poi vedremo di aggiungere nuove cose quando il business è avviato e le cose vanno bene. Quindi non imbarchiamoci in spese assurde fin dall'inizio perché andrebbe a gravare troppo sul benessere della nostra attività fotografica. Quarto e ultimo consiglio. Ultimo ma non in ordine di importanza perché anche questo è importantissimo. Si ricollega al primo punto dove parlavamo di avere ben chiara la nostra situazione finanziaria e le nostre necessità. Dobbiamo essere in grado di formulare delle tariffe appropriate da proporre ai nostri potenziali clienti che riescano a soddisfare le nostre necessità finanziarie. Quindi dobbiamo avere un piano d'azione preciso, sapere quali tariffe applicare a differenti tipi di lavoro, sapere che quelle tariffe ci fanno lavorare sereni, sapere che quelle tariffe sono sufficienti a coprire le nostre spese per riuscire a tutelare la nostra attività fotografica e i nostri guadagni. Spero che questi quattro piccoli consigli ti siano utili. Se hai qualche domanda o qualche perplessità chiedimi pure nel box qui sotto e ti risponderò. Grazie e alla prossima!